30 giovani scelti per presentare progetti volti al bene della collettività e al miglioramento dei servizi. È stata costituita la consulta giovanile, una commissione composta da 30 rappresentanti di associazioni e istituti scolastici della città, tutti al di sotto dei 30 anni, che avranno il compito di collaborare con il Consiglio Comunale presentando idee e iniziative rivolte soprattutto ai più giovani. Loro finalmente avranno attraverso questo strumento la possibilità di partecipare alle istituzioni democratiche e quindi dare pareri e atti di indirizzo al Consiglio Comunale e di quindi mostrare delle proposte, delle idee migliorative per il bene della collettività. Loro ovviamente si occuperanno prettamente di quello che riguarda il mondo giovanile e credo che sia un momento della democrazia molto importante oggi perché il consentire a un gruppo di giovani, di ragazzi che non sono giovani in quanto singoli ma sono rappresentanti a sua volta di alcune associazioni giovanili che hanno dimostrato fino ad oggi di lavorare attivamente per il territorio, messi insieme, credo che faranno un buon risultato. Attraverso quindi progetti, attraverso istanze, attraverso la voce dei giovani porteremo avanti tantissimi progetti utili per la città. Quindi esprimo grande soddisfazione per questo risultato che è stato raggiunto e spero che tutti gli organi, quindi tutta l'Assemblea, collaborerà insieme all'amministrazione e al Consiglio per avere risultati importanti per la città. Per noi questo incarico intanto è una grande opportunità e una grande soddisfazione per noi giovani che senza alcun colore politico siamo qui per promuovere le nuove istanze, nuovi progetti e sicuramente ci impegneremo nel farlo e nel realizzare quello che secondo noi sono delle nuove istanze possibilità che abbiamo di esprimere disagi o anche cose che stanno andando molto meglio e quindi ci impegneremo in questo. La consulta giovanile resterà in carica per tre anni.